Con la vittoria di Stornarella il Donuva Biceglie conquista il campionato di promozione. Allo Scirea finisce 4-2 con i gialloblu ospiti in rete con Traualli, autore di una doppietta, e con Pasculli e Troilo. In mezzo una doppietta di Michele Ciccone per la formazione del mister Pino De Martino che disputerà anche il prossimo anno il campionato di prima, mentre i bicegliesi festeggiano una meritatissima promozione. Blinda invece il terzo posto l'Atletico Ortanova, che sul sintetico del Torricelli di Cerignola batte 2-0 l'Atletico Acquaviva. Retiortesi siglate da Davide Tudisco su calcio di rigore al tredicesimo e da Mario Pompeti di testa su calcio d'angolo al quarantaduesimo. Una vittoria che proietta la formazione del mister Alfredo Bertozzi ad una storica semifinale domenica prossima al Fanelli contro il Bitetto che ha battuto 1-0 il Soccer Modugno. In finale ci va invece direttamente lo Sporting Apricena che espugna 1-0 il campo del Borgo Rosso Molfetta. Retrocede invece il Santo Omnicandrum battuto in casa 2-1 dalla Virtus Molfetta che disputerà il play-out contro il Giovinazzo che ha superato 7-1 il Celle San Vito. Il campionato di promozione si conclude invece con la vittoria della Fortis Altamura che supera 3-1 in finale la Vigor Moles e conquista il diritto al ripescaggio in eccellenza.